Ciao campioni, oggi siamo qui per una puntata speciale. C'è un super confronto? Perché abbiamo due oggetti molto particolari che testeremo oggi in questo parco. Il primo è lo Jan-Zi. No, aspetta, devi fare la faccia con la sorpresa da foto. Il primo è lo Jan-Zi. E il secondo è il Sing-Long. Andiamo a vedere che cosa sono ragazzi, dopo la sigla. Parliamo di questo super oggetto. Guarda che bomba, raga. Questo oggetto è una palla in Vimini ed ha origini tailandesi e malesi. Lo sport con questa palla è nata nel 1400 a.C. e si chiama Sepak Tabra. Sepak Tabra, ma non ci aspettiamo. Ragazzi, il mio accento è anche tailandese un pochino, quindi direi che sia andato bene. Comunque sia, con questa palla si palleggia e si gioca in un campo tipo da pallavolo con una data pallavolo. Io direi che la rigia ci può mandare qualche clip di professionisti che giocano con questa palletta. Invece ragazzi, l'oggetto che io emano si chiama Jan-Zi. Ha una piuma nella parte superiore, nella parte interiore. Ha delle piccole molle che ammortizzano il colpo. Questo oggetto ragazzi nasce nel V secolo a.C. quindi è un po' più giovane del tuo. È la dinastia Juan. Ma questa perla proprio... Ma l'ha anche scritto lui su Wikipedia, se non vedete questa cosa. Vedete questa pennetta? La parte delle piume serve per dargli un aspetto aerodinamico, quindi farla cadere sempre verso il basso. E viene utilizzata in Cina, nei parchi, da persone di tutte le età. Regia, una piccola clip anche dello Jan-Zi. Ora che vi abbiamo spiegato tutto direi partiamo con un mega test. Con tre mega test. Nel primo test ragazzi faremo un test di palleggio singolarmente con lo Jan-Zi. Un test di palleggio di coppia, quindi passandola come è la tradizione di questo gioco. Dopodiché faremo lo stesso test con quest'altra palla, perché il tuo mi spiace ma non è una palla, è un piumino. Sì, in effetti sì. Quindi questa è una palla, quella è un piumino. E' vero, devi grarmi così, sì. Quello però gratta meglio. Con questo non gratti. Quello gratti di buio. Partiamo con il primo test. Palleggio Posso ritenermi soddisfatto ragazzi. Allora, questa volta faremo dei palleggi a coppia. Massimo due tocchi a testa, vediamo un po' come va. Con lo Jan-Zi, che mi ha quasi ucciso. Gunther, sei pronto? Sono carico. Jan-Zi. Let's go. Direi che il risultato è abbastanza discutibile, che sia un po' difficile a controllare. La cosa positiva è che quando lo lanciamo in alto, il peso di queste molle e la piuma lo fanno sempre cadere verso il basso. Ci vuole un po' di tecnica. C'è un'altra cosa positiva, che se lo spari in fronte al tuo collega, non lo ammazzi perché attretisce bene. Ora direi di passare dal piumino d'oca. Test di palleggio, Ciglon. Ciglon. Scusa, come interessa? So che ci tieni. So che ci tieni. Ragazzi, lo spacco. Col piumini non perdo mai. Ti piace non palleggiare i piumini, eh? Ti trovi bello comodo. Guarda lì come contento, ragazzi. Non si vede il sorrisone, ma è il tuo casato. Va bene. Mi sono fermato, ragazzi. Abbiamo constato che questa è più facile, quindi al posto che hai due tocchi, un solo, tocco. Chi sbaglia perde. Sono d'accordo, un tocco. Vai, sbaglia. Bad pass. Passaggio brutto, quindi ha vinto Harry. Giustamente siamo uno pari. Procediamo con la seconda sfida. La seconda sfida sarà vedere quale tra questi due oggetti riusciremo a lanciare più lontano. Quindi quello che con un calcio riuscirà a fare più metri. Cinglong contro Jiang Zhu. Ragazzi, Jiang Zi. Non so neanche che cazzo sto dicendo. Esatto. Comunque, chi tirerà più lontano l'oggetto vincerà. Sono caldo. C'è un cannone al posto della gamba. Vediamo se Harry riuscirà a lanciarla più lontano di me, ma soprattutto vediamo se Jiang Zi arriva più lontano del mio adorato Cinglong. Voi cosa ne pensate? Per me, Harry, questo arriva più lontano. Sai che mi sa che hai ragione? Te lo dimostro. Tra poco lo sapremo. Solo uno. Un tiro. Se non accente, sono affari suoi. Ragazzi, per questa cosa abbiamo chiamato un ufficiale giudice della federazione Jiang Zi Cinglong, John Leffrey, che filmerà, testerà che tutto è regolare. E quindi siamo pronti. Sulla luna, ragazzi. Adesso lo spacchiamo. Ragazzi, l'ultima volta che ho calciato mi sono strappato tutto quanto, ma era una palla. E questo invece è una Jiang Zi. Quindi lo portiamo in Cina di nuovo con un calcio. John, giudice, controlliamo la metratura, ma anche se direi che non c'è tu. Ragazzi, mi è tirato il misero, ma purtroppo non posso calciare ancora di potenza che ho il retto femorale che è distrutto. Però io sono abituato a calciare i palloni, non i piumini. Quindi lasciamogli il piumino a Harry. Bravo Harry, congratulazione per la tua vittoria. Grazie mille. È il mio. Se lo Jiang Zi lo mi ha dato lontano, questo punta e spera che non lo spacco perché ti resti un mammina. Ragazzi, Roberto Carlos ha il tiro, ora parto e lo batto. Non posso perdere. Ragazzi, ho perso miseramente un'altra volta. Harry sta dominando. Eravamo 1-1 pari, se lo sfide prima, ora 1-0 per Harry. L'ultima sfida. Proverò a fare dei trick, vediamo un po' come va. Sfira freestyle. Quando lo Jiang Zi è la terra, la challenge è finita. Per ora 1-0 per me. Vediamo come va. È il Cillon. Un Cillon per te. Usalo bene. Direi di cominciare ringraziando il nostro giudice di gara, Johnny Lefrid. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Era molto difficile palleggiare, era molto difficile fare freestyle. Peraltro, vi ricordiamo, come avevamo fatto i 2.000, John, che a 5.000 iscritti ci sarà un giveaway del pallone che qualcuno peraltro si è chiesto. Quindi cade a pennello. Un super giveaway molto più bello di quello di 2.000 iscritti. 2.000 iscritti è una bomba comunque. Però ancora più bello. Hai ragione. Difficile, è difficile. Però 5.000 lo abbiamo fatto più bello. Ti lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Raggiungiamo i 10.000 iscritti entro il 31 dicembre. Ma che è inizio? Ma che è inizio? Ma che è inizio? Ma che è inizio domani? Ma direi? È inizio domani. Domani avete un'iscrizione. Sono pieni di polli. Fateci sapere ragazzi se vi è piaciuto. Se questo video raggiunge 200 like in 24 ore faremo un altro test con degli oggetti particolari. Con il fucile di Johnny. Alla prossima. Peace. Ciao. 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 Ciao.